Mi è sempre piaciuto il Messico. Oh no, un momento signora, no. Signora, io in Messico non ce la porto. Non posso. Senta, io capisco che lei è giù di corda. Le dico io cosa faremo. Ci faremmo per la notte. Lei ci dorme sopra. E domattina, fresca come una rosa, si prenderà un autobus per dove avrà deciso di andare. Le pago io il biglietto, d'accordo? Oh grazie, lei è molto gentile. Oh, per così poco. Sempre a sua disposizione. Ha visto? Già va meglio, non è vero? Oh grazie a me! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!